Se volete abbastanza semplice anche una risposta, quello che è importante è che questa società ha rivalito ancora una volta, ma di questo non c'era bisogno perché anche in precedenza l'aveva fatto la propria stessa, di continuare questa attività, questo percorso di crescita nel settore sportivo. Quello che è il budget, rientrare, perdere o non perdere, fa parte di tutto un altro meccanismo che è un meccanismo che, come vi dicevo più di una volta, fa parte di un sorvei finanziario che la Sardegna e tutte le altre squadre che partecipano al Caminato italiano debbano rispettare.